Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta! Benvenuti a Carta Canta. I disabili hanno stufato solo perché sono disabili, hanno il diritto al posto macchina, hanno il diritto di entrare nella ZTL e hanno anche il diritto di non prendere le multe perché hanno tutti i documenti in regola. Basta, eh? Basta! Quindi la mia amica Caterina è andata a protocollare la sua richiesta di entrare nella ZTL, che è corrispondente comunque alla sua grave disabilità, il 22 febbraio. Tutta bella precisa perché sono anche ordinati questi disabili. La Polizia Municipale di Teramo l'ha contravvenzionata il 3 marzo. Caterina prende i suoi documenti, gli allega e li porta alla Polizia Municipale per protestare e rivendicare il proprio diritto. L'ha detto, gli addetti leggono, constatano il fatto che Caterina ha ragione. C'è stato un mero errore amministrativo da parte dell'Ufficio Traffico perché poi le responsabilità, questioni di uomini, si rimpallano. Quindi la colpa dell'Ufficio Traffico, la colpa del nostro ufficio che non abbiamo segnato le targhe, ma sa c'è molto lavoro, comunque lei non si preoccupi, paghi la multa e faccia ricorso. O faccia ricorso per non pagare la multa, o comunque deve fare per forza ricorso. Cioè ricapitoliamo. Caterina protocolla la sua richiesta con tutti i documenti della sua disabilità il 22 febbraio. Voi la multate, la colpa di Caterina? No. Chi deve annullare la multa subito? Voi. Io vi ricordo che questi sono i buoni esempi da dare. E vi ricordo ancora che lo stato di disabilità non è una questione di inabilità, ma di adattamento ed è una forma di intelligenza. Chi ha dimostrato di non essere intelligente? Cartacanta.